porto ezreal ok taric esempio qua giocare gianna potrei giocare gianna conto taric ho una rass antipatico diamo di giannuzza you can pick me gianna if you want to wait 8 giangolo molto molto triste molto triste ti piacerebbe costare mondiali di lol a fianco a terrenas sì però al momento non so nel nel mood di castare mondiali lol e dai gianna vediamo se ancora buona perché magari altri due pic mi dicono se prendono un altro tankone vado subito di gianna conto scarina il gianna è accettabile anche morgana vuoi prendere e fammi pensare un attimo è più forte morgana o gianna mi sembra morgana il fatto che mi scoccio un po a rigiugare morgana ragazzi una persona brava non faccio che gli piace ma faccio che è più corretto non devi ragionare come un bambino e dire non c'ho voglia mi scoccio se morgana è meglio prendi morgana e stai zitto perché tante volte invece non lo faccio e mi annoio no ci divertiamo anche con morgana nessun problema morgana posso disabilitare scarna il morgana è più forte contro la calia rispetto a gianna morgana è buonissima con gin anche giocare che preferisce influisce nel game sì ma a livello di skill sono molto simile fra morgana e gianna morgana semplicemente ha una vita più facile questo game o meglio rende la vita più difficile la scarna è meglio contro la calia perché lo zonia la counter la ulti la counter quindi perché non andare di appunto prendiamo l'ignite eravamo un po distratti morgana nevi a taric build full mr diventa immortale guarda taric può proccare su clad che ha anche yellow redaction ma gli altri campioni sono tutti ranged quindi taric non avrà una partita divertente inoltre con morgana puoi bloccare il loro ingaggio principale che è quello di scarina taric basta il black shield su gin a rendire la vita dei due compagni più serena o su anivia e se io non sbaglio loro hanno tante difficoltà a vincere un teamfight posso anche bindare scarna il carrier nella vita molto complessa ultiamo a cali ultiamo a fizz quando vai né e non può scappare bella sì ma grazie per il subscribe è un pic molto buono come lo era prima eh o meglio prima l'abbiamo piccato solamente per alistar adesso è buona anche contro altre persone l'unica critica che mi faccio è giocare un po più di macro giocare un po più di vision che non sto facendo tantissimo non ho giocato male il game di prima ma si può fare meglio ho giocato a 7 e posso fare da 9 tranquillamente e posso anche aggiungere magari le summon spell e vogliamo tankare di più? vogliamo tankare di più e possiamo anche invadere tranquillamente 1, 2, 3 good luck and have fun boys we can kite back from skarner also for swift glad inizio saturday's binding 30 secondi alla generazione dei minion buy MR eh sì ma giro di senso molto forte anche questo game rusherò il locket talia è maschio o femmina ciao gregge talia è una ragazza eeeh non conosco molto bene la lore immagino che faccia parte del deserto non so nemmeno di dove addire il vero scusami eh shurima mamma mia non vorrei dirti una stupitaggine perché non la zonia? perché il locket è un mitico a differenza della zonia e loro hanno tantissimo danno magico mhm g non mi piace tantissimo questa prima scambio di cose baciami stupido eeeh la vedo molto positiva questa cosa ma direi bene si benissimo la prima dove scarno quindi non dobbiamo guardare continuiamo a mettere pressure continuiamo a mettere pressure mhm non ti sei stato divertendo tantissimo però g non sta al tempo stesso farmando tanto bene bene scarno da qui adesso potrebbe essere bot side oh bel dodge quello che ha fatto gin è molto sbagliato perché perché non ha mano e non vuole utilizzare eh tutto tutto il mano per lavare 50 hp a un tank molto meno detente per l'acqua per pushare anche questo mi ha fatto un cazzino 23 pare che li vogliono dei bar io sono della vostra gang è morto prima che il mio flash servisse peccato mi ammazzerei ma ho pure lì non riuscirò a ammazzarlo infatti non lo farò per perdere il card sono felice sono felice e ha perso anche l'esperienza scarpe hp si non possiamo andiamo mid lane prendiamo un bandino comunque molto buono taric ha flashato 4 e 30 4 e 20 9 e 20 su flash ah è morto di nuovo ok grave molto grave per me non pensai a farmarne così tanti livello un po' bulli ma possono devi frizzare qua potrebbero fare il drago ma non penso che sia in condizione di contestarlo questo farizzo mi è piaciuto moltissimo mi basta pochissimo mi basta pochissimo farlo fuori arriva clad dovremmo vincere bello ha spinto al lato sbagliato e molto bene mobility mercuri potremmo farci mercuri facciamo questo momentaneamente benissimo e andiamo mid lane è molto buono molto molto buono buono il chase buono il trade siamo morti ma è worth per noi sono mid lane ho il bambino hai timato un auto non muore non muore non muore il cuore sicuro per spy come nei peggiori film bella mia giocata niente vero kingfist bravo ha mantenuto la calma noi invece abbiamo giocato come se fosse già morto non lo era io avrei una ultimate ora è davverissima mortissima non muore no senza non è qua però quali stanno entrando ok quindi ci vogliamo fare i mercuri quanto ci vuole per i mercuri pochetto ci vuole Snipe Snipe Top shit Adesso qua abbiamo un recall che è bellissimo Che è Mercury Magica esista C'è che il Black Shield l'ha salvata dalla ulti Hai detto una stupiraggia Qua c'è Scarner Stiamo guardando un po' con la mia mappa Cerchiamo di traccare un po' di più il jungler Questa è molto buona per me Che flash ha? No Non l'ammazzo come me Guarda la mia mappa Che king Cirebbe essere Scarner qua Quella voglio io Adesso Abbiamo anche l'araldo Baciami stupido Se lo vuoi tenere? Fai un bacio dammi un bacio dammi un bacio Dammi un bacio dammi un bacio Se ti facessi la sorella di Giusy Hai timato l'espelli Facessi la sorella Faresti Almeno Se avessi scritto farebbi Sarebbe stato più carino Che vi dicevo ragazzi Questo game Ce l'ho Regalano Quanto è questo? Boh Ci sono io eh Arrivo da la camanina Sono dancoso Ma non so se sono abbastanza dancoso O i mercoli Sono molto dancoso Ma abbastanza Con l'hocat magari non morire Ragazzi Era molto più di rimanere Dobbiamo stare attenti Abbiamo sempre una team con più forte la loro eh Però Non vuol dire che siamo autorizzati a fare errori gravi Giguiamo per la mid Giguiamo per la top Oh mamma In realtà anche Anivia dovrebbe countare Skarner Con la sua ultimate Benissimo Locked up Andiamo per lo zone adesso Anche se tutta quella magica esistence Boh Non mi fa impazzire Tutta quella armatura è buildata con lo zone Porco due ingaggia Ah molto buono Qua Si mette una grande pressure Questa cade Imbarazzante W dov'è Quella è morta È molto molto facile ragazzi C'è un buco Oh no Cazzo Io avrei forzato come un pazzo C'ho anche Dannazione Ok perché non c'è il black shield Si può perdere A mio ultimo Deve prendermi un bel po' E ho fatto veramente un bel lavoro Cioè anche se muoio mi sta bene Vinciamo mi sa Poverino Poverino Taric Che è veramente inutile Come campione Non può giocare Capite perché è così forte Morgana Perché cioè Crea davvero tantissimo attrito Vorrei farmi lo zone Non so Comunque un po' di danno fisico L'ho ricevuto Come mai 19 di magia Ma Non lo so Da cosa mi arrivano Questo qua mi da BT power 9 E anche questo Mi da BT power Poco ma me lo da Preferisco avere più HP Rispetto ad avere più BT power Perché Il mio obiettivo è Non morire Non è fare danno Mi sono messo molto bene Lo so afflammato Sono davvero Dancoso Dai Ho buildato Magico Solo per questa situazione C'è ancora il locket Non mi fate incazzare Dai Dai dash Poi è impossibile Un salvo Hai visto? Tancon suck Adesso ci arriva pure lo zone Baciami Stupido Potevi darmi la mania Facevo la quest Fannaggia a te Non cambierà mai Ah che palle Ho preso il carretto Quindi non faccio la quest Che per me è importantissimo Perché mi dà un sacco di vita in più Ah Feels bad man Benissimo Muore Perché è molto Dancoso Infatti Ma Le vinci in draft Le partite Qui La capacità Deve stare in questa Doggiare Fizz è un po' omofobo Non approviamo assolutamente L'omofobia Anzi Bene 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 Lo dici sempre Non lo fai mai Perché siamo in diretta Ragazzi Mi rodo un po' il culo Doggiare Comunque Partita vinta Allora sappiamo ancora giocare Grandi Abbiamo un po' i danni La vision score E Anche questa partita 19 minuti e via Lollo un po' Sempre un po' Come wild rift Lollo un po' i danni Lollo un po' i danni Anche Lollo un po' i danni Lollo un po' i danni